Anch'io parlerei da una scuola di cuochi, che è creata attraverso l'educazione prima ancora di essere cuoco e poi semmai diventare dei buoni cuochi. Io ho disegnato i tavoli e le sedie, ho fatto in modo che adesso ho un'identità concreta per quello che è lo stare a tavola, non per fare design, ma perché la comunità e le esigenze della tavola sono drasticamente cambiate da 30 anni fa quando ho iniziato a cucinare ad oggi. L'ambizione è quella di fare qualità, il prodotto come nella cucina parte da una piccola cosa perché si dedica del tempo e da quella poi come meglio uno può pensare alla molteplicità delle situazioni che accadono sul mercato. Però credo che la passione ha con il mio mondo della cucina, dell'artigianato, con assolutamente il mondo del, se mi permettete, anche se ci sono macchinari importanti di là, però con tanto volontà di artigianato l'educa.